Un secolo di carcere, questa la pena combinata dal GUP di Reggio Calabria, Olga Tarsi, alla cosca Bellocco di Rosarno, al termine del processo Sant'Anna. Un solo assolto e 18 condanne, delle quali la più pesante, a 18 anni di reclusione, è stata imposta proprio al capo di una delle più potenti famiglie di indrangheta del regino, Umberto Bellocco. Classe 1937, soprannominato A sui mazzi per il famigerato tatuaggio dell'asso di bastoni in fronte, Bellocco è un undranghetista dal curriculum impressionante. Dei suoi 78 anni, 22 li ha trascorsi in carcere, a partire da quando fu arrestato per la prima volta nel 1983 a Lecce per detenzione di armi da fuoco. La Puglia, infatti, è una regione cruciale nella carriera criminale di Umberto Bellocco. Proprio negli anni 80 fu lui a dare il permesso a Giuseppe Rogoli di fondare la Sacra Corona Unita per contrastare le mire espansionistiche della camorra di Raffaele Cutolo. Agli albori degli anni 90, dopo la fine della seconda guerra di indrangheta, è uno dei soggetti che traghetta l'associazione nel nuovo e pacificato assetto, prima di essere arrestato nel 1993. Nel 2014 viene scarcerato per essere arrestato meno di due mesi dopo, proprio con l'operazione Sant'Anna. Stava cercando di riorganizzare la propria Andrina, nel frattempo decimata degli arresti di Gregorio e Giuseppe Bellocco. Non sopportava più che l'altro clan rosarnese, quello dei pesce, avesse raggiunto un potere maggiore di quello della propria famiglia. Stava cercando di riorganizzare la propria famiglia. Stava cercando di riorganizzare la propria famiglia. Grazie.